Ciao ragazzi, parto subito chiedendovi scusa se in questi giorni avete visto pochissimi video ma sono veramente uberatissimo di lavoro ovviamente siamo sotto Natale, io facendo lavoro part time in un centro commerciale in questo momento si è veramente una pressione pazzesca quindi non ho mai, mai un giorno di riposo, mai un momento libero per fare video se non questo che vedete adesso che è la mia pausa pranzo in questo momento per cui vi chiedo scusa per questo e vi chiedo scusa anche del fatto che continuate a vedere video soltanto del Parma però è l'unico video che riesco a fare in questo periodo però vi prometto che o domani o dopodomani, quindi durante il giorno di Natale uscirà uno speciale natalizio riguardante storia del calcio quindi questo sicuramente ve lo porterò venendo però la partita del Parma, il Parma ha affrontato una partita molto difficile il Bari in casa del Bari partita tosta che allora io sono molto combattuto riferito a questa partita perché indirente a questa partita perché diciamo che da una parte sono molto contento che la squadra sia riuscita a prendere un punto sono in un campo difficilissimo come quello di Bari sono molto contento del gioco espresso durante questa partita il Parma ha avuto il pallino del gioco per moltissimo tempo durante la sfida mi sono piaciute molte manovre eccetera il reparto difensivo sicuramente è da voto 10 durante questa partita però durante la fine della partita, durante la fine del secondo tempo purtroppo ho iniziato piano piano a perdere la speranza di riuscire a segnare ovviamente io quando guardo una partita del Parma io spero che ottenga i tre punti e all'inizio sembrava anche che comunque nei contropiedi eccetera ci fosse questa voglia di riuscire a portare a casa i tre punti contro il Bari tre punti che sarebbero stati oro, veramente oro in un campo difficilissimo complimenti davvero alla squadra del Bari che ha veramente un comparto veramente fortissimo, giocatori di altra categoria i vari Galano, i vari Nenè per farvi un esempio sono usciti Galano e Nenè sono entrati Floroflores e Brienza quindi questo vi fa capire quanto sono forti e complimenti anche ai tifosi del Bari che hanno cantato dall'inizio alla fine veramente è stato un bel vedere, un bel ascoltare più che altro vi stavo dicendo che io sono leggermente confuso perché a lungo andare durante la partita ho visto un Parma piano piano contentarsi sempre di più un Parma che piano piano verso la fine della partita maggiormente ha iniziato a perdere tempo in maniera massiccia e pesante con giocatori che rimanevano a terra per una manata con portieri che cercavano di perdere tempo per prendere il pallone in mano che sono cose sinceramente che a me personalmente infastidiscono a me personalmente ho visto, ho parlato con altri tifosi del Parma ho visto che a loro non dà fastidio per loro un punto a Bari tanto di guadagnato e quindi ci stava a perdere del tempo io sono di tutt'altro avviso ma è una cosa mia personale sinceramente non è una critica nei confronti della squadra assolutamente no cioè l'unica critica che ho effettivamente verso la squadra è solo di una questione mentale io ho capito che perdere tempo ci poteva stare perché a Bari è un campo difficile perfetto ho capito che siamo in una situazione molto complicata perché siamo da molte partite ormai senza una punta vera e propria e ci può stare che diciamo ci accontentiamo di questo pareggio va bene ok abbiamo queste problematiche ma perché io mentalmente devo accettare devo accettare io tifoso che la mia squadra mentalmente si debba accontentare contro il Bari perché? per quale motivo? cioè non stiamo giocando noi ultimi in classifica contro la prima in classifica ok? non è assolutamente così cioè non siamo ultimi siamo teoricamente delle pretendenti per arrivare in serie A e perché io devo vedere una pretendente che deve arrivare in serie A in campionato accontentarsi di un pareggio proprio accontentarsi mentalmente non cercare più un contropiede non cercare più di calciare abbiamo fatto tre tiri in porta ragazzi in tutta la partita ma questa è una mentalità che a lungo andare poi tu continui ad avere anche nelle partite successive ma lo abbiamo visto anche contro il Cesena uguale identico ovvio non cercando di il pareggio quello assolutamente no però una mentalità poco attenta alla zona offensiva siamo molto più attenti alla zona difensiva ma molto meno attenti alla zona offensiva ho capito che abbiamo delle grandi difficoltà in avanti per via della questione attaccante però abbiamo fatto almeno dieci partite senza fare gol dieci partite senza fare gol su azione scusatemi dieci partite senza fare un gol su azione ho capito che adesso ci sta andando anche bene per certi versi stiamo riuscendo ad ottenere punti e macinare punti e siamo lì ormai ok siamo in quella zona lì però le nostre difficoltà ci sono e si riscontrano in queste partite qua almeno la mentalità almeno il vedere una squadra che dice no siamo 0-0 continuiamo almeno a cercare il gol continuiamo continuamente cioè continuiamo comunque a cercare il gol ok continuiamo continuamente certo non è un bel modo di dire bisogna tentare in tutti i modi di segnare magari prendi il gol del contropiede vabbè ma sinceramente a me brucierebbe molto di più sinceramente prendere il gol dell'1-0 che ti fa perdere la partita mentre sei bloccato in difesa che mentre sei diverso in attacco cioè almeno io la penso così fatemi sapere voi cosa ne pensate comunque sono contento per questo punto guadagnato ma e credo che manchi ancora una partita prima del del mercato dovrebbe essere la partita contro lo spezia speriamo che venga acquistata subito una punta si parla di massimo coda da un ritorno di massimo coda a me va bene una punta qualsiasi non ho problemi però se dovessi dare un nome io proverei a dire perché non provare a riprendere in prestito Cerri dovrebbe essere un'idea questa però credo se non mi sbaglio gioca Perugia Cerri in questo momento non ricordo bene dove stia giocando però comunque dovrebbe essere già casato in questo momento in prestito se non vado errato ma è che vada comunque un altro giovane non sarebbe male un Pinamonti un Cutrone eccetera poi qualcuno ci ha offerto anche Andre Silva qualche tipo Zellenbiden magari non si sa mai si parla anche di un ritorno di paletta quindi speriamo che a Natale possiamo trovare il palettone sotto l'albero così mi è stato detto riferito io vi dico anche a voi questa battuta mi è piaciuta tantissimo ragazzi commentate qui sotto io devo volare devo scappare di nuovo al lavoro grazie mille per aver visto questo video un saluto ciao da Papyrus e Forza Parma anche per la partita del 27 contro lo Spezia